Affanti fuori! Oh, non c'è niente. Senti come un'orrida foresta nel cuore della notte per godersi dei biscotti al formaggio con gli amici. Sono d'accordo! Casa di mattoni o di legno? La casa di pallia sembra più sicura! Io dico la casa di pallia! Aspetta, non hai mai letto la favola? Arriverà qui e con un soffio butterà giù la casa di pallia! Snell, la casa di mattoni è più sicura! La bestia se n'è andata! Credo che sia ancora là fuori! Al villaggio Caffè? Jerry Van Toppeling, vieni presto! Si sta mangiando le case! Mangiare a volontà Prego, prendi un piatto! Mamma mia, bella! Cosa possiamo fare? Oh, hai bella sistemato! Oh, hai bella sistemato! Oh, hai bella sistemato!